Ok, ma chi è? Sono Alessandro Allora, non sono pronto, non sono pronto Dici Pasquale Allora, è stata una bellissima esperienza E tu sei, presentati Io sono Andrea, il regista E passo la parola al mio fidato collega Pasquale Pasquale All'altro regista Altro regista, prego Ciao, io sono l'altro regista, sono Luigi Bella Questo corso è stato molto utile Per farci entrare nel mondo del cinema Perché abbiamo avuto un'istruzione a 360 gradi Dove siamo abbattiti da zero Scrivendo un trattamento con una scaletta Arrivando a un prodotto finale Dove appunto ci possiamo accontentare per quello che è Bravo Hai parlato molto Ciao Ciao Buonasera Allora, buonasera Che dire, è stata un'esperienza unica E mi ha fatto piacere comunque Conoscere Mi ha fatto piacere comunque Conoscere Giovanni Guardaporta Questo ragazzo farà grande strada Perché è un grande Come è stata questa esperienza? Io Non piangere però Vabbè, allora Assolutamente sì Bellissima, bellissimissima Ci devo pensare Vabbè, allora io Allora io passerei di nuovo la parola Uno dei principali protagonisti Regista Luigi Bello È stata una bellissima esperienza La rifarei La rifarei anche domani Perché comunque Oltre a divertirci Abbiamo imparato comunque tante cose Stiamo a dire che abbiamo usato sette camicie Solo per scrivere la sceneggiatura Sì Infatti Siamo riusciti È stato tutto difficile Abbiamo scritto tipo Quaranta storie diverse Quaranta volte forse Almeno No, vabbè Contando le cinque Cinque Sì Cinque Abbiamo scritto cinque volte Per un motivo diverso Sì No, con Andrea che insisteva Che Alice dovesse morire Eh, infatti E con questo Salutiamo Salutiamo Ciao Alice esplode Ciao Come stiamo ad andare? Abbiamo fatto Grazie